Paura sulla nave per Olbia. Ieri sera è scoppiato un incendio nella stiva della Cruz Bonaria proveniente da Livorno. Il traghetto della flotta Grimaldi si trovava già in vista dello scalo dell'Isola Bianca quando dal garage a Prora ha cominciato a sprigionarsi del fumo scuro e denso. A provocarlo le fiamme originate dal semirimorchio di un camion frigo che propagandosi hanno finito col coinvolgere anche altri automezzi. Molta la preoccupazione per le oltre 200 persone a bordo, disposte subito nel punto più lontano rispetto al rogo, ma immediata la risposta dei soccorsi. Massiccio lo spiegamento di forze e sostegno delle operazioni di spegnimento fiamme e salvataggio tra vigili del fuoco, militari della guardia costiera e mascalzone scatenato, rimorchiatore del gruppo Mobi che ha scortato la motonave in porto. Nessun danno, fortunatamente, per i 155 passeggeri e i 70 elementi dell'equipaggio. Accertata l'incolumità delle persone, sono partite le indagini coordinate dalla Capitaneria in sinergia con la Procura di Tempio Pausania per stabilire causa e dinamica dell'incendio. A coloro che sarebbero dovuti salire sulla cruise bonaria per il ritorno in Toscana, è toccato cercare alternative formando una lunga fila alla biglietteria dello scalo marittimo.